Ciao io, è Messami da Fosisi Accademia in questo video, vi mostrerò, in tre semplici step, come risolvere, educativo timbro trama, in AutoCAD, Autodesk, file di disegno. In primo luogo, al comando richiesto, digitare, DXFOT, salvare il file nel desktop. In secondo luogo, al comando richiesto, digitare DXFIN, e quindi selezionare il fill, si salva in precedenza. Sul desktop, in terzo luogo, utilizzare salva con nome un disegno, dei comandi, digitare il nome, e selezionare la posizione, per il file, se si seleziona lo stesso nome originale, e la stessa posizione, quindi accettare, per sovrascrivere il file originale. La didattica, la trama timbro, rimosso con successo, spero che queste informazioni, è disponibile, grazie per l'osservazione.